è arrivato un altro pacco ma oggi sono arrivati tantissimi pacchi amore tutti per te si si apri bene strappa come tu e quella è un pozzo di carta amore vedi che c'è dentro mi sa che devi strappare bene la carta la busta si ok cos'è quella? ma quello non è niente amore cos'è quella? perché cos'è quella? niente niente tu interessa di quello che c'è dentro il patto ti riesce a cuore? mamma mamma si passamelo che te lo apro insomma ci passa mamma te lo apri mettiti la, resta la che ci sarà qua dentro apri un po vedi un po apri 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 tira fuori Ma dai, tu che ci riesci, porta Cioè, bisogna un altro aiuto? Sì Dai Facciamo così Ci sono due cose, apri e guarda che cos'è Che cos'è quello? Ancora Ma hai capito che cos'è, amore? Non so che c'è lì Apri Metti la manina dentro e prendi dopo le manine, scusa Che cos'è, amore? Spiderman Spiderman Fammi vedere Dammi vedere La maglietta di Spiderman Bellissima E quello che cos'è? Giralo un po' Sì, ma giralo un po' Che cos'è, amore? La mia Il letto di Spiderman Sì Mamma, te l'aveva promesso Sei contento che è arrivato? Sì Così domenica lo facciamo? Sì Montiamo il lettino tuo e mettiamo Spiderman Sì Sì? Sì Bene Evviva Saluta Ciao Sempre guardando Ciao Sì